Cinque minuti sono i minuti necessari per poter salvare una vita, quindi ogni secondo è davvero importante. Il punto cruciale è che mi sono accorto casualmente, ma in sostanza non è che sia una cosa difficile da vedere, basta semplicemente conoscere le cose che vi sto per dire, molto semplicemente. Allora, ogni secondo nella fase di arresto cardiaco è davvero importante. Una delle prime fasi da fare per chi non ha estrema competenza è quello di chiamare il 118. Chiaramente abbiamo cinque minuti di tempo per poter salvare una vita, abbiamo cinque minuti di tempo per evitare dei danni cerebrali permanenti, per cui sono cinque minuti che tutta la fine, se uno si comporta nel modo dovuto, sono un tempo sufficiente. Ma sono un tempo terribilmente breve, se uno non sa esattamente cosa fare o peggio, se fa qualche errore procedurale. Mi spiego. Quando avviene un arresto cardiaco o insomma in un'evenienza di estrema urgenza, è necessario una delle prime cose da fare è accertarsi chiaramente che la persona sia in arresto cardiaco, ma soprattutto chiamare il 118. Quindi qualsiasi errore venga fatto in ambito di anche questa procedura molto semplice, cioè di telefonata, produrrebbe un ritardo che potrebbe procurare comunque un danno. Che cosa avviene? In Italia i numeri di emergenza medica sono questi. 112, numero unico di emergenza, ex arma dei carabinieri. 113, polizia di Stato, soccorso pubblico di emergenza. 114, emergenza infanzia. Non sapevo onestamente. 115, vigili del fuoco. Questo è molto importante. 116, soccorso stradale. 117, guardia di finanza. E finalmente 118, emergenza sanitaria, ambulanza, soccorso sanitario. 119, team, assistenza clienti. 119, team, assistenza clienti. Premesso che non ho nulla contro la team, mi chiedo come sia possibile che questo numero ancora oggi nel 2019 o nel 2020, quando lo vedrete più avanti, questo numero sia ancora in mezzo ai numeri di emergenza, un numero di assistenza clienti che sia assolutamente collocato tra i numeri di emergenza nazionale. Pertanto io spero che chi vede questo video possa condividere questa cosa e cortesemente fa spostare questo numero perché se risponde team, servizio clienti, la cosa effettivamente può dare qualche ritardo procedurale davvero importante. Allora io mi auguro che con questo video possiamo in qualche modo contribuire a far sì che le istituzioni o chi per essi possano comunque gentilmente far spostare il 119 del servizio clienti team verso un'altra parte passando così da un codice rosso d'urgenza a un codice bianco, visto che urgenza non ce n'è. Grazie dell'attenzione e a risentirci. Grazie.